Benvenuti nella rubrica che si tiene una volta al mese film a caso, il film di oggi è From Beyond, cominciamo. Film di Stuart Gordon con Barbara Crenton, Jeffrey Combs, Ken Fore del 1986. I dottori Pretorius e Tillinghast lavorano sulla stimolazione della ghiandola pineale per aprire la mente a dimensioni superiori. La squadra riesce a portare a termine come successo l'esperimento, ma viene attaccata da terribili forme di vita. Dopo Reanimator, il regista Stuart Gordon, alla sua seconda opera, torna a lavorare a temi simili, traendo nuovamente spunto da Lovencraft. La scienza, pur di mandare avanti i suoi scopi e le sue teorie, si dimostra incurante delle conseguenze. Il film è abile a immettere nella narrazione più punti di vista, quello della scienza e quello della psicologia, che entrano in competizione tra loro, finendo per imbattersi in un delirio di ogni potenza, che porta ad effetti in uno civile splatter, che tradiscono un intento positivo che c'è alla base di una professione di questo tipo. Vi è inoltre il personaggio di un poliziotto, che paragona il comportamento della folle protagonista ad una dipendenza. Non è un caso che il capolavoro di qualche anno dopo, Brian Damage, che mischia body horror e metafore spietate sulla droga, abbia delle intuizioni visive simili a questo From Beyond. Noi ci identifichiamo sia nel personaggio femminile che in quello del traumatizzato scienziato, e riusciamo ad avere da una parte curiosità ma dall'altra paura, perché quest'ultima, avendo già visto il tutto, ci avvisa delle eventuali pieghe orrorifiche che il tutto potrebbe prendere, e per questo la pellicola, prima di esplodere in un delirio sanguinoso, mantiene una buona dose di suspense. La prima parte crea un'aura di mistero intorno al villain, che quando appare lo fa spaventando il pubblico, che da qui in poi sarà in costante ansia, anche perché la macchina che inizialmente blocca le gesta dell'antagonista influenzerà negativamente anche i personaggi positivi, conducendoli a una tremenda trasformazione. A livello concettuale, sono molti rimandi al cinema di David Cronenberg. La stimolazione di parti del corpo a noi sconosciute, portano a perversioni carnali come nel Demon sotto la pelle, come in Rabbid, sete di sangue. La morte, proprio come in Videodrome, sancisce l'arrivo in una dimensione in cui si è onnipotenti. Ma se Cronenberg tiene a creare oltre a strabilianti effetti splatter, anche una trama complessa e articolata, ma soprattutto comprensibile, qua la linealità narrativa lascia spazio ad un'esposizione di divisive non, perciò può capitare di non comprendere alcuni passaggi. Altro horror con alcuni punti di contatto è Eraser dell'anno successivo. L'idea della mente che usa il corpo come tramite per esprimere tutte le sue perversioni c'è in entrambi, quindi è la psiche che va a intaccare la fisicità e non come in alcuni lavori di Cronenberg, dove i personaggi per via di malformazioni fisiche cominciano lentamente ad avere segni di squilibrio. Così come non manca, in tutti e due, sia un'atmosfera perennemente malsana, sia il tema del sadomasochismo. Slither di James Gunn deve tutto a questo film, perché il mostro gelatinoso e con budella e viscere visibili l'ha interpretato da Michael Rooker, identico al personaggio del dottor Edward Pretorius. Non tutti gli effetti speciali sono memorabili, ma allevate le anguille volanti, il resto funziona abbastanza bene e mette realmente ribrezzo. La scena in cui i due scienziati ormai disintegrati si affrontano in un ammasso di frattaglie è cult, disturbante e quasi sempre convincente, non privo di imperfezioni, ma senza dubbio un piccolo gioiello del genere. Grazie a tutti.